Loro provengono dal lago di Garda e da Brescia. Chi è di Brescia? Qui buono. Io l'ho fatto con la regia strada. Sono insieme nel 2011. Il loro genere musicale è pop rock. Facciamo un bel applauso alla chitarra Giorgio. Alla chitarra voce Davide. Al basso Paolo. Alla batteria Alessio. Loro sono One Offer. Buonasera a tutti. Quanto a spazio devo ringraziare Luca Nocce e tutta l'organizzazione dell'efficienza Rock Contest per averci fatto arrivare fino a qui. Quindi grazie Alide davvero. Il primo pezzo è uno spazio. Logicamente si intitola Sogno Ribelle e inizia più o meno così. Nocce e tutta l'organizzazione Rock Contest per averci fatto arrivare fino a qui. Nocce e tutta l'organizzazione Rock Contest per averci fatto arrivare fino a qui. Oh 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 Non riesco a fidarmi di chi è qua giù C'è il sereno nei tuoi occhi blu Dammi risposta e so che l'hai tu Mentre il mondo chiare Non ti nascondi dietro di me In mezzo al mondo chiare Non ti nascondi dietro perché Quante cazzate alla tv Strumenti del tempo senza virtù E' primavera di gioventù C'è il mio livello e ora mai più Mentre il mondo chiare Non ti nascondi dietro di me In mezzo al mondo chiare Ti nascondi dietro perché E' primavera di gioventù 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 Grazie mille Grazie mille Grazie mille